I VMAs, il Golden Globe, ma per favore, l'unica premiazione che conta sono i Fuma Awards, anzi i Fuma Awards, con una A sola, dove scandaglieremo il meglio, ma anche il peggio, perché siamo cattivi, del 2018. Ho fatto già le due puntate dedicate ai libri, oggi con la musica, argomento top del video di oggi, scandaglieremo sia ciò che mi è piaciuto e ciò che mi ha fatto schifo, in sostanza, ovviamente tutto my own opinion, e proprio cercheremo di parlarne assieme. Quindi condividete con me anche i vostri pensieri sulla musica del 2018. Ci saranno anche le categorie Il What the Fuck dell'anno, La Sorpresa dell'anno, Il Guilty Pleasure e La Miglior Canzone Trash dell'anno. Ma andiamo con ordine. Iniziamo proprio con la classifica base, ovvero i 10 migliori album. E partirò dalla posizione 10 alla posizione 1. Allora, un album che ci ha fatto penare perché doveva uscire da tipo 10 anni e finalmente ce l'abbiamo, è Honey di Robin. Robin, la cantante pop svedese, che ha raggiunto un enorme successo internazionale con i singoli tratti dai 3 EP Body Talk, diventando proprio una mini-icona del pop contemporaneo. E poi è svanita nel nulla, facendo qualche singolo lì, la collaborazione con i Rockstop di qua, e finalmente il suo album, Honey, è arrivato. Ed è un elegantissimo disco pop, in grado di fondere anche suoni più chill, che sembrano uscire dalle spiagge più futuriste, più futuristiche del mondo. Non lo so, ad esempio c'è la canzone Beach 2K20, che trovo estremamente raffinata, ideale a un party in spiaggia, super super cool. È un disco molto curato nei suoni, raffinato e conciso, che mi è piaciuto da pazzi. Entriamo però anche nell'elettronica, nel progressive elettronica, con Oniotrix Point Never, che è uno dei musicisti più prolifici e più interessanti nell'ambiente della musica elettronica. Con l'album Age Off, che ha un forte sapore classico anche negli arrangiamenti, che a me hanno ricordato molto Brianino. Il disco, diciamo che ha diviso in due la critica, il pubblico, anche chi ama Oniotrix Point Never, soprattutto dopo che i suoi ultimi dischi andavano anche ad arraffarsi un sound un po' più estremo, come Garden of Delete, bellissimo anche quello. A me Age Off è piaciuto molto, l'ho trovato anche in questo disco estremamente raffinato, è proprio il potenziale sonoro, la colonna sonora ideale per un viaggio sulla luna senza alcun ritorno. Ma follia psichedelica anche per Yves Tumor, che è un artista stranissimo, ma lo stebo di grandissimo talento, che mischia più generi assieme, creando questo ibrido alieno musicale, in grado di essere molto spesso orecchiabile, ma sempre nel confine weird, tanto che i suoi pezzi sembrano provenire effettivamente da un altro pianeta. È uscito con l'album Safe in the Hands of Love, che reputo uno dei migliori dell'anno. Quindi andate subito ad ascoltarlo, la sua musica è molto difficile da descrivere, è molto più semplice ascoltarla e sorprendersi tutti assieme. Ah, non vi ho detto che è tutto nell'infobox, se volete cercare nomi, artisti, eccetera. Dal Giappone, invece, Harunemuri. Siamo alla posizione 19, 8, 7, con l'album Haru Tushura. Chi è Harunemuri? Harunemuri è una cantante alternative rock giapponese di poco più di 20 anni, quindi è molto, molto giovane. Ed è, ha trovato questo ibrido stranissimo musicale in grado di fondere l'hip hop, non sto scherzando, con il noise rock bello aggressivo. Tant'è che spesso si addentra anche in territori molto abrasivi, tendente al post-hardcore. È un mix che non troverei assolutamente in equilibrio, e invece lei è riuscita a fare un disco estremamente divertente e anche fortemente ispirato. Quindi, pazzesca, datevela subito ad ascoltare. Nei territori dance floor più agguerriti arrivano gli Amnesia Scanner, che è, si tratta di un duo, credo che siano in due, di musica Deconstructed Club, che significa quella tipo di musica che prende i suoni tipici del dance floor e li destruttura, fino a farli diventare quasi post-industrial. L'album Another Life, in particolare, mi ha sorpreso tantissimo per la follia totale che lo attraversa, e per la gestione scombinata e allo stesso tempo affascinante dei ritmi molto abrasivi. È un disco che sembra provenire da un futuro apocalittico e che distrugge, ti manda a male. C'è viaggi psichedelici gratuiti, in questo caso. Come non nominare la diva dell'anno? Miss Keta, una vita in caps lock, finalmente un disco gioiello all'interno del panorama mainstream italiano. Certo, lei non è proprio mainstream, ma lo sta diventando, imponendosi come la diva definitiva. Trovo l'ironia di Miss Keta, over the top, fantastica, iconica, il giusto bilanciamento tra il sovversivo e Prada, è meravigliosa. Il disco, tra l'altro, sperimenta più tipi di suoni, dal bubblegum bass al noise rock, cosa che non credevo possibile per Miss Keta, ma la traccia spleen queen entra pienamente a titolo nel genere, favolosa, e i testi iconici come sempre. È tornato anche un grande artista che io amo alla follia, David Tibbet, sotto il suo nome Current 93, con l'album The Light is Living a Soul. Ancora, David Tibbet, uno dei pionieri del neo-folk, del folk apocalittico, a me strugge sempre, anche quando magari sembra scrivere la stessa identica canzone. Lui è proprio un poeta. E questo disco l'ho adorato, è stato un comeback favoloso, e mi ha rimandato al capolavoro degli anni 90, Soft Black Stars. Quindi, nonostante ci fossero dei dischi della seconda metà del 2000, dei Current 93, un pochino più sottotono, questo, e questo è il precedente, I am the last of all the field that fell, lo stanno riportando al giusto Eden, diciamo. Torniamo al pop, però, perché Yon Ali, che è la cantante del progetto I am my way mai, ha realizzato l'album Everyone Afraid to be Forgotten, che è un disco pop bellissimo, in grado di miscelare bene, un'attitudine molto havant, quindi comunque sperimentale, con melodie veramente potenti. È un disco molto lungo, ma allo stesso tempo mai noioso. Non c'è nessun filler, e tutte le canzoni si inchiodano alla testa, nonostante prendano anche direzioni più, diciamo, meno inclini al pop radiofonico classico. Un disco pop come si deve. I due album migliori dell'anno, però, sono sempre di musica elettronica. È stato un bell'anno per la musica elettronica, secondo me. In particolar modo con Against All Logic, che dovrebbe essere un progetto collaterale di Nicholas Jar, con l'album 2012-2017, che è uno dei pochi disky house degli ultimi anni, che dura più di un'ora e sembra che duri cinque minuti. Fortissimo, tutti i pezzi spaziali, ha proprio il suono di una metropoli futurista. E adoro. L'album più bello dell'anno, però, ve ne ho parlato, Oil of Every Pearls and Insights, di Sophie. Straordinaria DJ, partita col Bubblegum Bass e poi introdottasi all'interno del Deconstructed Club, con pezzi epocali come Immaterial, Face Shopping, Ponyboy, Whole New World. Un disco pazzesco. Ma qual è stata l'enorme sorpresa dell'anno? L'enorme sorpresa dell'anno è stata Lana Del Rey, con Venice Beach. Un singolo spaziale che, a mio parere, è la canzone più bella del 2018. Una delle più belle, probabilmente. Lana Del Rey, voi sapete che a me non piace, per gusto personale. La trovo un po' ripetitiva, non mi piace particolarmente la sua voce, non apprezzo tantissimo il continuo immaginario all'America, che fu leather jeans, skinny jeans, cioè, basta. Però, ho ascoltato questo brano perché mi sorprendeva che la canzone di Lana Del Rey potesse durare nove minuti e perché ne stavano parlando tutti benissimo, come al solito. L'ho ascoltata e sono rimasto esterefatto. È una canzone spettacolare, in grado anche di giocare con lo slowcore, con lo psychedelic rock, molto rarefatta, eterea. Dura nove minuti, vorresti che durasse tre ore. Cioè, ve lo giuro, bellissima, brava Lana, hai convinto anche me. Infatti non vedo l'ora di ascoltare il nuovo album che uscirà a febbraio e che spero sia una svolta per lei e che ripercorra questo tipo di musica che trovo decisamente più affine ai miei gusti. E il What the Fuck dell'anno, il ritorno dei miei amatissimi Shushu, che è il mio gruppo preferito, con Scissors, che è il singolo che anticipa il nuovo album Girl with a Fruit Basket. È un pezzo dove, secondo me, Jamie Stewart e Angela Sio sono completamente impazziti, unendo proprio musica dissonante al massimo noise, con il Tribal Ambient e con addirittura un sample da Sad Reduxographer, canzone strappalacrime da A Promise. Un pezzo che, come singola prepista, a me ha sconvolto, soprattutto perché negli album, negli ultimi album, anche quelli più cattivi, hanno maggiormente tendenza alla forma canzone di Shushu, mentre sperimentano altrove in progetti collaterali. Questo, invece, è proprio un pugno in faccia. E ci sono rimasto, tipo, What the Fuck. Il Guilty Pleasure dell'anno, lo so che mi tirerete i pomodori, alcuni di voi, però Sfera e Basta, con Rockstar. Un disco che non mi piace, in realtà, ma che mi dà la carica. Quindi, nei momenti in cui sono un po' più ignoranti, io me lo ascolto volentieri, perché i testi non mi piacciono per niente, proprio zero. Però, non lo so, sono melodie che ti si attaccano alla testa, con Lui che fa il figo, Balenciaga, Adissare Tutti. Cioè, boh, mi piglia bene. Sembra uno di quei dischi che ascolto quando mi sento Yuvutone e Tukarpisa. Cioè, quindi, basta. È il mio Guilty Pleasure dell'anno. Va bene. Ma ora veniamo proprio alle cose trash, le peggiori. Allora, la cosa peggiore dell'anno, secondo me, è il singolo cover Imagine, la canzone di John Lennon, interpretata da Yoko Ono. Io, Yoko, povera Yoko Ono, lei è odiata da la stragrande maggioranza delle persone. Molti di questi non sanno che Yoko Ono è stata una delle artiste più importanti dell'arte contemporanea. E pensano che sia diventata famosa solo per i Beatles. Io la difendo, la difendo spesso. però, cioè, proprio tirarsi la zappa sui piedi. Allora, Imagine, la versione di Yoko Ono è orrenda. Orrenda. Io capisco che lei abbia voluto farla, probabilmente, come omaggio perché l'ha fatta uscire, se non erro, all'anniversario del compleanno, del compleanno di John Lennon. Però, però, perché è cantata malissimo, la cosa più interessante, in realtà, è come la, cioè, la supporto strumentale, che è un po' ambient e che trovo gradevole. Però, ecco, no, vi giuro che è veramente doloroso ascoltare la sua cover e mi dispiace. Un'altra delusione che è forse uno dei dischi peggiori che avevo ascoltato quest'anno è A Girl Cried Red di Princess Nokia, che in realtà è un mixtape EP. Princess Nokia è una rapper che a me, nonostante il rap non mi piaccia particolarmente, 1992, il suo primo album, lo trovavo pieno di chicche e lo trovavo molto interessante. A Girl Cried Red cerca di mischiare quell'attitudine, l'attitudine del primo album a delle melodie emo, rock, emo rock e secondo me l'esperimento è riuscito malissimo. Cioè, proprio, io l'ho scontato e ho detto ma chi l'è successo? Per fortuna che è solo un mixtape. L'album, però, peggiore dell'anno, secondo me, è delusione totale perché io lo ritengo una delle pop star più interessanti, soprattutto con gli ultimi album ha dato la, ha dato proprio una nuova immagine di sé. Nella sua carriera solista ha dimostrato di essere un artista con i controcazzi e sto parlando di Justin Timberlake che è tornato con l'esperimento fallimentare per eccellenza che dovrebbe essere un omaggio all'atmosphere country che per un breve periodo nel pop è andato per la maggiore tra gli artisti di punta. Man of the Woods è un album a tranoce per il sottoscritto. Ci sono dei momenti veramente trash. Cioè, mi spiace dirlo, nonostante il grosso budget, nonostante la grande cura di produzione, nonostante Justin Timberlake sia un bravo interprete atroce. Cioè, per me è stata una tortura. Mi spiace per voi che magari l'avete apprezzato ma io lo voto come il disco peggiore dell'anno. Ma qual è la miglior canzone trash dell'anno? Ha 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 di Young Signorino iconica. Cioè, tra una, mancavano le canzoni, quelle canzoni, perché è difficile essere lì con la trash. Però, mancava quella canzone da un po' di tempo che è destinata ad entrare negli annali del trash. Scommetto che tra dieci anni questa canzone verrà messa nei parti e verrà ascoltata tipo oddio che bei tempi quando c'era Young Signorino. Ecco, quindi iconic per sempre. Poi io adoro il suo stile, adoro tutto, quindi vabbè. Comunque niente, questa era la mia carrellata musicale del 2018. Fatemi sapere le vostre classifiche nel meglio e nel peggio. Siamo liberi anche di parlare male dei mostri sacri, semmai. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!